la cipollina intelligente ciao amici oggi parleremo dei vari tipi di macchine ci sono le automobili i camion gli autobus e le macchine da lavoro le automobili viaggiano sulla strada come gli autobus eccolo guardate gli autobus trasportano le persone da un posto all'altro guardate un camion con cassone ribaltabile chissà dove sta andando vediamo un po' ecco qui un cantiere la ruspa preleva la terra il bulldozer la sposta e la gru sta sistemando i blocchi per costruire una casa questa è una jeep che può viaggiare anche sulle strade sterrate e come lei anche il trattore che fa i lavori in campagna ecco qui proviamo adesso a disegnare un bel camion facciamo le ruote quella davanti e quelle dietro poi facciamo il telaio il cassone che riempiamo di sabbia e la cabina dell'autista ecco qui il nostro bellissimo camion ciao